La sua farmacia ha in vendita le mascherine a 50 centesimi? Le mascherine a prezzo camminato si trovano con estrema difficoltà, pochissime, ne sono arrivati a scaglione grazie alla protezione civile. C'è chi ipotizza che siano state lasciate nei magazzini in attesa di tempi e prezzi migliori? Assolutamente no, è assolutamente falso e anche a mio avviso poco delicato e da parte delle autorità della protezione civile nazionale piuttosto che dei vari ministeri, che vadano a dire che probabilmente i farmacisti le hanno messe da parte perché avevano dei problemi di prezzo. Noi non abbiamo messo da parte nulla, non abbiamo mascherine, non riusciamo a trovarle al prezzo che sarebbe stato di 40 centesimi di acquisto e di 50 di vendita. la tanto sbandierata IVA che il 26 di aprile domenica sera era stata detta che sarebbe stata abolita è stata tolta solamente ieri, l'altro, il 20 di maggio, quindi con 24 giorni di ritardo. Quindi noi non possiamo fare altro che constatare che le mascherine continuano a mancare sul territorio. Purtroppo la quantità consegnata è decisamente insufficiente rispetto alle richieste. Noi abbiamo avuto due tranche da 150 e questa settimana, due giorni fa, ne abbiamo ricevute 200. Purtroppo sono finite in un battibaleno. Noi cerchiamo in generale di non darne tante a ciascun cliente, di limitarle, però purtroppo non possiamo neanche, se le abbiamo in casa, non darle, perché questo non sarebbe giusto. Cerchiamo sì di non darne tante per ciascuno, però purtroppo c'è poi anche l'esigenza delle attività lavorative. Ci sono attività lavorative che hanno riaperto e sono ancora sprovviste di mascherina, il che è un po' un problema. Dottoressa, lei ha ancora delle mascherine? Ci sono rimaste le ultime, una busta da 10 mascherine, perché vengono, molta gente fa la coda per prendere mascherine, per avere un pochettino di provvista, ecco, a casa. Travezzo Calmiarato 0,50, c'era l'IVA del 22, al 22 l'hanno tolta. Non avevamo più mascherine? Ma non arrivano ancora. Eh, speriamo di sì, eh. Quando? Potrebbero arrivare anche domani. Finite, esaurite. Sono arrivate due giorni fa e nel giro di un paio d'ore sono bruciate.